L'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Caltanissette e la Commissione Albo Medici Chirurghi organizzano un corso di aggiornamento in Neurochirurgia e Medicina Generale, dal titolo La patologia del rachide, aspetti gestionali, diagnosi e terapia. L'incontro si svolgerà venerdì 17 febbraio a partire dalle ore 14.30 e si aprirà con i saluti del Presidente Provinciale di Caltanissette Giovanni Di Polito e del Dirigente di Neurochirurgia del Presidio Ospedaliero Sant'Elia Luigi Basile. Nell'aula magna del Consorzio Universitario di Caltanissette si susseguiranno gli interventi di medici, specialisti che parleranno della patologia degenerativa del rachide, del contributo della diagnostica per immagini nella diagnosi e nel fall-up, degli aspetti clinici e terapeutici dell'ernia discale lombare o ancora dei trattamenti nel caso di spondilolistesi, l'importanza dello studio neurofisiologico pre-operatorio e intraoperatorio di mielopatia cervicale e del ruolo della fisio-chinesi-terapia. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione con l'indicazione dei crediti formativi attribuiti dalla Commissione. La più comune, proprio perché comune e interessante mielopatia cervicale, è la stenosi spinale cervicale. La stenosi spinale cervicale è una patologia del complesso colonna vertebrale cervicale, midollo spinale cervicale, caratterizzata dal restringimento del canale spinale e, conseguentemente, da una compressione acuta o cronica, dipende dalle cause del midollo spinale.